Il terzo tempo, da quello che io mi ricordo, che mi hanno riferito i miei carissimi genitori o viceversa tutta la stirpe, il rugby è nato prima il terzo tempo e successivamente è nato il sport del rugby, che il terzo tempo è l'unione, l'aggregazione fra le due squadre che si affrontano negli 80, 70, 60 e così via minuti di gioco in campo, è l'unione che si segue a successione del gioco.